e allora due parole su questa vicenda che riguarda il coronavirus applicata al gioco del calcio perché io non ho mai dato cioè comunque ho sempre dato un peso giusto né allarmismo né menefreghismo comunque sia non giro con la mascherina in metropolitana però evito per dire di contatti che ne so attaccarmi al palo oppure io prendo la metropolitana per lavoro tutti i giorni non mi appoggio alle porte insomma non tocco niente quando sto in giro mi lavo 5-6 volte le mani al giorno ho la mucchina sempre appresso per cui ecco le norme quelle igieniche magari le ho un po aumentate rispetto allo standard normale però non ero allarmato anche perché la vedevo come una cosa lontana poi inizio a sentire che magari anche in Italia c'è un focolaio due cinesi ricoverate lo spallanzani poi però senti che nel Lodigiano poi senti a Cremona poi senti qua senti là pare che il Nord piano piano sta aumentando insomma e hanno preso queste misure precauzionali di sospendere le partite relative oggi non giocano nel Torino in casa nell'Inter in casa nell'Atalanta in casa nel Verona in casa e credo che poi comunque mano mano che passeranno i giorni perché il discorso qual è che dove hanno fatto i tamponi chiaramente hanno trovato delle presenze di questo coronavirus ma non l'hanno fatta in tutta Italia questi tamponi per cui può essere che magari io che vi sto parlando che comunque mi sono fatto due settimane dove respiravo a fatica dove avevo febbre qualcosa magari poi fateci caso da gennaio da inizio anno in poi molti si sono fatti delle influenze più lunghe rispetto al passato le scuole erano decimate quindi nulla vieta di pensare che questo virus sia arrivato già in forma di turismo sotto Natale però detto questo torniamo al discorso calcio io mi chiedo che senso ha fermare per una settimana delle partite che poi probabilmente verranno fermate anche nelle prossime ma allora non ha più senso o fermare tutto il movimento perché così falsi comunque il campionato perché perché a livello io mi metto nei panni di un Inter che vedo Juventus e Lazio che scappano poi magari a me mi fermi due tre partite poi io ricomincio a giocare che sto a meno 12 punti per dire no anche se ho delle partite da recuperare ma moralmente parto svantaggiato per cui mi hai messo in una difficoltà rispetto alle altre allora io credo che le soluzioni potevano essere due una volta effettuati i controlli i tamponi a tutti i calciatori le loro famiglie i dirigenti tutti quelli che poi si spostano per una partita o la fai giocare a porte chiuse o proprio fermi tutto il movimento non ha senso fermare tre quattro partite poi due le fai giocare poi magari la settimana prossima chi va al nord non può giocare cioè diventa un troiaio tra l'altro tra l'altro c'è anche l'europeo che incombe quindi io non riesco proprio a trovare una data dove si possano giocare tutte queste partite almeno che in una settimana non gliele fai recupera tutte quante che si gioca tutti i giorni ma diventa veramente una classica buiaccata all'italiana e ripeto non sto dicendo che il calcio non si deve fermare perché davanti ai eventi importanti si deve fermare ma si deve fermare in blocco ok no che fermi due partite sì tre no eccetera ed è una cosa in cui inizia a preoccuparsi perché se arrivano a fermare la prima azienda calcistica in Italia che è il calcio un minimo di preoccupazione bisogna averla quindi le norme antigeniche che stanno pubblicando in questi giorni cerchiamo di rispettarle tutti quanti io vi auguro una buona domenica la mia squadra gioca quindi è una domenica un po' più per chi non ha giocato uscite che è una bella giornata però copritevi grazie